L'interquartieri è un'opera molto attesa, la città di Fano è ovviamente normale e giusto che ci siano delle osservazioni anche dopo che questa è stata aperta, come è avvenuto recentemente. Abbiamo monitorato il traffico prima dell'apertura, intendiamo farlo dopo per verificare come cambiano le abitudini e cercare di capire come cambiano le abitudini degli automobilisti della città di Fano che usano questa arteria e che riversano il traffico anche su altre arterie collegate. È chiaro che con l'apertura di questa arteria si modificheranno inevitabilmente le abitudini dei cittadini, quindi è necessario studiare questi effetti anche nel medio periodo, nel senso dovremmo dare il tempo ai cittadini di abituarsi a questa nuova arteria e quindi dopo che sarà passato un po' di tempo ristudieremo i flussi nelle strade intorno all'interquartieri in maniera tale da avere un quadro completo e in maniera tale da capire come sono modificate le abitudini. Quindi fino a quel momento non abbiamo intenzione di fare stravolgimenti drastici della viabilità. Però alcune piccole osservazioni, già l'ufficio tecnico insieme all'ufficio mobilità ha già preso nota, ad esempio verrà cambiata la posizione di un attraversamento pedonale lungo via l'Italia che è effettivamente un po' nascosto, verranno messi dei cartelli per migliorare la viabilità, quindi dei cartelli che impediscano in alcuni tratti l'accesso o comunque per avvisino e impediscono l'accesso ai veicoli pesanti. Abbiamo visto che c'è su via Liguria un problema per cui alcuni automobilisti girano senza fare la rotatoria su via Liguria, quindi metteremo dei cartelli ad hoc in maniera tale che alcune cose che già non si possono fare verranno capite meglio. Quindi da parte del Comune c'è una piena disponibilità ad accettare i consigli, a metterli in pratica, a sistemare le cose laddove possibile in tempi molto rapidi come faremo subito dopo, diciamo, tra qualche giorno, prima della fine dell'anno, queste piccole modifiche che ho annunciato e che quindi dovrebbero portare dei piccoli benefici. È ovvio che la strada interquartieri, noi pensiamo, possa portare dei benefici a questa città. Già la gente ce lo riconosce, quindi cercheremo di limitare al minimo i disagi per un quartiere, quello di Poderino.